Oggi è un giorno molto speciale. È passato un anno dal mio matrimonio. Il mantel blanco della mesa terminò tutto manciato. La tovaglia bianca del tavolo finì tutta macchiata. Questo pezzo di carne è troppo duro. Per favore portatemene un altro. La campagna è stata molto trasparente. Nessuno ha denunciato frodi. Questo studente è molto irresponsabile. Non fa mai compiti. Il monitor professionale del studio funziona molto meglio che il di casa. Il monitor professionale in studio funziona molto meglio di quello di casa. Sono stanco di doverti spiegare tutto così tante volte. Quei pantaloni sono grigi. Devono essere lavati. Rendere croccante il mio pane tostato, ma cercare di non farlo bruciare. Questo lapizio è molto piccolo. Lo vas a perdere. Questa matita è troppo piccola. La perderai. Il pollo era davvero buono. Sono al verde. Ho perso tutti i miei soldi al casino. I piccoli fori sui fogli servono per attaccarli alle cartelle. I conti della valutazione erano facili. Trovo che l'atteggiamento di sua sorella sia irresponsabile. Il sole è perfetto come i tuoi occhi ipnotizzanti. Mi piacciono le tue sopracciglia. La musica elettronica può anche essere rilassante. Questa farina raffinata è una delle migliori che abbia mai usato. Mi prendo cura dei miei denti. Il mio fratellino parla con molti errori. Le persone intelligenti sono i migliori risolutori di problemi. Questa è la poltrona più comoda che abbia mai provato. La ropa negra combina con tutti i colori. I vestiti neri si abbinano a tutti i colori. La sua anima poteva essere vista attraverso i suoi occhi. Le carte erano nella manica. Qui festeggieremo il mio compleanno. Fuori piove così forte. Sal a fuori per vedere che bella alba. È lì che giocano i cani. Fuimos con mis amigos al borde della collina e jugamos. Con i miei amici siamo andati sul ciglio della collina e abbiamo giocato a. Apurate, già están todos allá. Sbrigati, sono tutti laggiù. Ella no quería ir hacia allí a incontrarse con su hermana. Non voleva andare lì per incontrare sua sorella. Carlos e i suoi amici. Suoi amici jugavano al rededor del árbol. Carlos e i suoi amici giocavano intorno all'albero. Siempre me quedaré aquí, in il pueblo dove nascì. Rimarrò sempre qui, nel villaggio dove sono nato. I libri che stai cercando sono al piano superiore della biblioteca. Mi abuela vive cerca di mia casa. Mia nonna vive vicino a casa mia. Te espero in la orilla. Ti aspetterò sulla riva del mare. La porta si cerrò delante di lui. La porta si chiuse davanti a lui. Estábamos dentro della casa quando comenzò la lluvia. Eravamo in casa quando iniziò a piovere. Formen una fila detrás del mostrador, per favore. Formate una fila dietro il bancone, per favore. Ese è il bar dove ci siamo conosciuti. Questo è il bar dove ci siamo conosciuti. Ci siamo addormentati tra le foglie. Il pantalone che busca si encuentra encima di quella silla. I pantaloni che sta cercando sono su quella sedia laggiù. Ci sediamo proprio di fronte all'arco. I piatti sono accanto ai bicchieri nella credenza. La carta di Juan già sta lejos di qui. La lettera di Giovanni è già lontana da qui. Il perro si metteò por debajo della cama. Il cane si è infilato sotto il letto. Il jarrone sta sobre la mesa. Il vaso è sul tavolo. Non conosco nessuno qui. Tutti i miei amici vivono lontano. Siamo qui riuniti per discutere della nuova legge. Ha già iniziato a nevicare là fuori. Ecco il contratto per voi. Lo conosci in casa di mia prima. L'ho incontrato a casa di mio cugino. Nelle zone caldo e piove durante l'estate. Nel mio quartiere la gente vive molto tranquillamente. Allà lejos, in la tribuna, sta sentata mi mamà. Lontano, sugli spalti, siede mia madre. Mi hermana vive in Londres. Mia sorella vive a Londra. Ho lasciato i miei vestiti fuori ad asciugare. Se piove, tendremo che fare il festejo adentro. Se piove, dovremo festeggiare al chiuso. Guardé tutto dentro della caja. Ho messo tutto nella scatola. Ieri siamo passati davanti a casa tua. Il tour sale dalla piazza principale. Incontrè una carta sobre la cama. Ho trovato una lettera sul letto. Leì solamente hasta la mità. Ne ho letto, solo metà. Abbiamo camminato nel parco tutta la notte. Ci siamo incontrati al ristorante. Ci siamo incontrati lì. Tutti i vicini qui intorno sono persone gentili. Cerca di tu casa hai una heladeria muy buona. Vicino a casa vostra c'è un'ottima gelateria. Los busqué por il colegio e fuimos a almorzar. Sono andata a prenderli a scuola e siamo andati a pranzo. No corrimos tan rápido come per alcanzarlo. Non abbiamo corso abbastanza per recuperare il ritardo. La nuova recepcionista lavora peggio della precedente. Dovresti essere meno preoccupati dell'esame finale che della tesi. Cantas tutto il giorno tal come tu padre. Canti tutto il giorno proprio come tuo padre. Me gustò tanto este cioccolate che me compré una caja. Questo cioccolato mi è piaciuto così tanto che ne ho comprato una scatola. I bambini si sono comportati molto meglio dell'ultima volta. Finalizaste l'esame più rapido che io. Hai finito l'esame più velocemente di me. Penso che sia tanto ridicolo quanto inutile quello che mi state proponendo. Mi sembra che questa film sia peggiore del precedente. Ti comporti come il tuo fratellino. Ustedes comieron más che io. Hai mangiato più di me. Las repercussiones fueron tal come lo esperábamos. Le ripercussioni sono state proprio quelle che ci aspettavamo. Notan tan bien como cuando tomava clases. Non così bene come quando frequentavo i corsi. Arreglamos l'auto perché andava molto male. Abbiamo riparato l'auto perché non funzionava bene. Questo telefono cellulare suona meglio di quello che avevo prima. Aprendemos meno nel corso virtuale. Impariamo meno nel corso virtuale. Tutti vanno alla festa excepto io. Tutti vanno alla festa tranne me. Perché iria io contigo alla cena? Perché dovrei venire con te a cena? Nos vemos el lunes. Ci vediamo lunedì. Los martes, juego al ajedrez. Il martedì gioco a scacchi. ¿Ya decidiste? ¿Avete deciso? Debo delegarte esta responsabilidad. Debo delegare a voi questa responsabilità. Este es un proceso ejecutivo. Si tratta di un processo ejecutivo. È una riunione aburrida. È una riunione noiosa. È un tipo molto cobarde. È un tipo molto bigliacco. Non è intelligente. Non è intelligente. Mi piace bere jugo di naranja. Mi piace bere succo d'arancia. Spero incontrare i documenti pronto. Spero di trovare presto i documenti. Voglio perdere peso. Che hai per cenare? Cosa c'è per cena? Salgamos a caminar. Andiamo a fare una passeggiata. La verità non ricordo eso. Non ricordo bene che. È ora di almozzare. Vamos. È ora di pranzo. Andiamo. Por favor apaga il televisor già. Spegnete subito la tv. È ora di iniziare a risparmiare. Non sono sicuro di volermi sposare. Por favor cierra la ventana. Chiudere la finestra. Non voglio pensare più in questo. Non voglio più pensarci. È ora di ottenere la mia promozione. Voglio costruire la mia casa. Voglio costruire la mia casa. Necesito contarti qualcosa di importante. Devo dirvi una cosa importante. Corregiste le risposti. Avete corretto le risposte? Correste questa maratona? Vogliamo correre questa maratona? Criamo un'opera d'arte. Creiamo un'opera d'arte. Debes cubrir al niño con cuidado. È necessario coprire accuratamente il bambino. Devo prendere in prestito il tuo libro arancione. La bevita è molto dolce. La bevata è molto dolce. L'acqua fredda cadeva dalla cascata. La comida rapida è la più deliziosa. Il fast food è il più delizioso. El adoptó a un perro. Ha adottato un cane.